ci vogliamo calmare no paloma paloma no paloma che cos'è questo gesto atletico paloma ogni sera paloma fa gesti atletici casa ferragnes significa che come si lancia un volo dell'angelo su giù su giù e ogni volta becca toys da migliaia di euro fin quando poi si cascia qua sopra fedez e gli mangia i piedi ma dai ma lui è contento di farseli mangiare lo fa apposta gli li mette proprio in bocca cazzo poi fa la vittima dai fedez che paloma ti piace da matti passiamo a cose più serie francesca con edo questa chiara ferragni bellissima lei così sognante con questi occhioni pilates redi chiara nel 2009 guardate quanto è cambiata era molto più trash adesso è molto più rifinita come qui e poi questa strana storia di ricchi nicoletti i gas cure sa che cazzo vuol dire non si sa ha ha